Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video Come potete vedere siamo qui con 6 ordini in contemporanea ragazzi Ben 6 ordini, primo nell'universo a portare 6 ordini in contemporanea Però lasciate subito un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Perché prossimamente vedete tutti questi 6 ordini Però siccome in questo periodo stanno uscendo molte nuove confezioni E ho ancora molti video arretrati Non vi porterò subito questi 6 ordini che mi sono arrivati adesso Quindi ve li porterò più avanti nei prossimi giorni, non so quando E non avranno l'intro, perché? Non avranno l'intro perché adesso io vado subito ad aprire Per vedere appunto se ci sono tutte le carte di coordinato Altrimenti devo scrivere al venditore per dirgli che mancava qualcosa Oppure non è nelle condizioni in cui ci eravamo accordati E quindi appunto siccome devo aprire tutti questi 6 ordini adesso Perché mi sono arrivati oggi contemporaneamente 4 Più 2 che mi sono arrivati ieri Cioè adesso mi metto a aprire tutti questi 6 ordini Quindi appunto non avrò l'intro e tutto il video per bene Però appunto apro, controllo tutte le carte E le lascio qua dentro così ci farò il video In futuro non so quando Però adesso devo aprire per forza per vedere se ci stanno tutte le carte E niente, vi volevo dire solo questa cosa Sono arrivati 6 ordini Qua c'è addirittura un 7 completo Qua anche Qua ci sono delle carte che vi avevo già spoilerato qualche video fa Però basta spoiler Niente, era solo un video cortissimo Per dirvi che ho questi 6 ordini Ma ve li porterò non so quando Adesso mi stanno chiamando Vi devo finire il video Ciao a tutti Like, subscribe, share E tutto quello che volete Ciao a tutti Ciao a tutti